L'abbiamo tanto attesa e ora, alla vigilia del suo inizio ufficiale, l'estate porta con sé la prima ondata di caldo torrido in tutta Italia. Da oggi fino a venerdì toccheremo valori record oltre i 40 gradi e l'umidità sarà opprimente. Un anticiclone africano in arrivo dal Sahara nelle prossime ore avvolgerà il paese. I termometri potrebbero registrare fino a 8-10 gradi in più rispetto alle medie. La sensazione di caldo sarà amplificata anche dalla durata delle ore di luce, che proprio in questi giorni raggiungeranno il loro massimo. A iniziare a soffrire sarà il centro-sud. Sono già 15 le città in preallerta. Il 21, proprio in coincidenza con il sostizio, arriverà il primo bollino arancione. È il Molise con Campobasso a guadagnarselo, mentre saliranno a 15 le città con bollino giallo. Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona. Lo indica il bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute, che prevede il rischio caldo in 27 città. In pratica da nord a sud non si salva nessuno. Anche la Sardegna, con i 40 gradi record previsti a Oristano, vivrà giorni afosissimi. E a causa dell'umidità, nemmeno in spiaggia ci sarà scampo dalla canicola. A prestare maggiore attenzione nelle sporse al sole è la popolazione più fragile per età o condizioni di salute. I consigli sono di evitare le uscite nelle ore più calde, scegliere il locale più fresco di casa e mantenere un'idratazione elevata.